Ragazzi, sapete dove siamo? Siamo a Coverciano, dove si è allenata la nazionale italiana. Fai vedere un po' in giro? Ok, vieni, vieni, vieni. Da qui, da qui, un tentativo, Rabona gol. Se entra, ragazzi mi seguite, vi faccio anche un trick così, così, gratis. Questo era gratis. Se entra, mi seguite. Vado, eh? Porca! Ora se no, la prendi? No, ragazzi mi seguite con un peritrae.